Amicizia, condivisione di sensazioni, confronto e rassicurazioni su ansie problematiche è stata condita da tutto questo, salto la chemio e me ne vado a Loreto, l'iniziativa del Day Hospital Oncologico e dell'associazione Genius Loci che ripetendo la precedente di un anno fa al santuario di San Gabriele ha portato pazienti, medici e infermieri del reparto Teramano fino a Loreto nelle Marche. La comitiva accompagnata dalla direttrice sanitaria della ASL di Teramo Maria Mattucci e dal direttore del reparto di Oncologia Amedeo Pancotti ha vissuto una giornata diversa dalla quotidiana routine della chemioterapia evadendo dalle pesanti problematiche che ognuno dei partecipanti affronta nella vita di tutti i giorni. È uno degli appuntamenti che noi stiamo organizzando con i nostri pazienti in un percorso che veramente vede insieme scienza e spirito come l'abbiamo detto ma soprattutto vede insieme medici, infermieri, associazioni di volontariato e pazienti. Io lo dico sempre, lo ripeto fino alla nausea, noi siamo i servitori dei nostri pazienti, noi medici e infermieri siamo al servizio delle necessità dei nostri pazienti e quando un evento come questo può avere il senso di incontrare in un piano e su un piano differente, le necessità e i desideri e la realizzazione di quelle che sono le speranze, noi ci siamo e stiamo felici di esserci. Il pensiero è sicuramente un pensiero positivo che va verso il prendersi cura del paziente. È un onore per l'associazione Genius Loci di essere qui in presenza della dottoressa Mattucci e del dottor Pancotti e di tutto il personale dell'oncologia di Teramo in un'atmosfera di allegria, di sintonia e dove tutti ci stiamo mettendo il cuore.